Blizzard, una delle più grandi aziende di sviluppo di videogiochi al mondo, è attualmente al centro dell'attenzione dei giocatori di Diablo 4. Con l'uscita ormai imminente per la prima stagione, molte persone sono curiosi di sapere che interventi Blizzard attuerà nei prossimi sei mesi e come funzioneranno le esperienze di gioco. Oggi andremo a esplorare i problemi attuali del gioco e le soluzioni proposte da Blizzard, analizzando l'impatto che potrebbero avere su Del Sino di Diablo 4. Ormai sono diverse settimane che mi sto occupando di Diablo 4. Ho iniziato a parlarne e quindi a portare dei video fin prima dell'uscita, quindi durante le varie beta e lo so ancora oggi portando. Però in questo momento in me c'è un po' di noia. Ormai sono quasi alla fine, quindi sono quasi arrivata a livello 100, mi mancano pochissimi livelli per arrivare al cap, però devo dire che tutto l'entusiasmo che avevo inizialmente è proprio svanito. Questo a causa della noia che mi sta nascendo dentro, in quanto comunque alla fine, diciamo dal livello 80 al 100, le cose da fare per poter spare sono veramente risicate. Cioè praticamente dobbiamo soltanto per fare una buona esperienza andare a fare in Nightmare Dungeon, che sono poi più o meno sempre uguali e quindi diventa una cosa di routine, molto noiosa devo dire almeno per quanto mi riguarda e non c'è sbocco o alternativa di fare qualcosa di diverso. Anche questi dungeon poi alla fine sono sempre gli stessi, è un cliccare 1, 2, 3, 4, non hanno delle particolari difficoltà. Insomma, io devo dire che in questo momento del gioco mi sto molto annoiando. Spero che con l'arrivo della prima stagione le cose un po' vadano a cambiare, ma devo dire che essendoci anche poi tanti problemi che affliggono in questo momento Diablo, non sono del tutto positiva in merito. Uno dei principali problemi lamentati da giocatori impegnati nell'engame di Diablo 4 riguarda le resistenze non fisiche nei World Tier avanzati. Le resistenze non fisiche sono considerate poco efficaci nel ridurre i danni ricevuti, soprattutto a partire dal World Tier 3. Nonostante l'utilizzo di oggetti appositivamente potenziati per questo scopo, queste resistenze si rivelano meno efficienti rispetto alle resistenze fisiche e altri meccanismi di riduzione dei danni. Fortunatamente Blizzard è consapevole di questo problema e ha promesso di intervenire durante la stagione 2 di Diablo 4. I giocatori possono quindi aspettarsi dei bilanciamenti significativi che renderanno le resistenze non fisiche più efficaci e competitive rispetto alle altre opzioni di mitigazione dei danni. Questa soluzione potrebbe ridurre la frustrazione dei giocatori e migliorare l'esperienza complessiva di gioco. Però devo dire che comunque hanno detto che lo faranno nella seconda stagione, quindi dobbiamo ancora attendere come minimo 3 mesi. Un altro problema che affligge attualmente i giocatori di Diablo 4 riguarda le build non ben bilanciate. In particolare i giocatori che scelgono la classe del Necromante si sentono costretti ad utilizzare la build Ossa per avere una possibilità di sconfiggere Lilith, uno dei boss più potenti del gioco. Questo squilibrio rende limitate le opzioni di personalizzazione delle build e limita la creatività dei giocatori. Blizzard è consapevole anche di questo problema e sta lavorando per trovare una soluzione. Durante i prossimi 6 mesi l'azienda si impegnerà a migliorare l'equilibrio tra le diverse build e a rendere tutte le opzioni più competitive. Ciò consinterà ai giocatori di sperimentare con diverse strategie e di adattarsi al proprio stile di gioco senza dover necessariamente seguire una build specifica. Allora io mi auguro che ci sia effettivamente questa soluzione, però come vi dicevo prima questa soluzione non è imminente, cioè questa soluzione l'avremo tra qui a 6 mesi. Quindi io in questo momento mi sento molto depressa, tra virgolette, perché comunque con la classe del necromante vi voglio dire che per la centesima volta mi sono sentita costretta a cambiare di nuovo la build. Anche se quella di ombra mi piaceva molto, era tra virgolette perfetta per andare a fare le cose del mio livello, però comunque se volessi andare ad affrontare Lilith a quanto pare avrei scarse possibilità di andare a sconfiggere quel boss lì. Quindi tutte queste cose mi hanno un po' lasciato con la mare in bocca. Fatemi sapere se anche voi siete della stessa opinione, se vi state annoiando, se ritenete che Blizzard poteva fare di più, visto che comunque è un gioco che abbiamo pagato molto. Devo dire che è un gioco che ho pagato più di tutti i giochi che ho comprato, ho pagato 90 euro e quindi mi aspettavo un prodotto altamente migliore. Gli interventi di Blizzard nei prossimi sei mesi avranno un ruolo determinante quindi nel definire il successo o il falimento di Diablo 4. La risoluzione dei problemi legati alle resistenze non fisiche e alle build non bilanciate sono cruciali nel garantire un'esperienza di gioco gratificante e appagante per i giocatori. Con l'impegno dichiarato da Blizzard nel risolvere queste problematiche c'è motivo di essere ottimisti per il futuro del gioco. C'è anche da dire che però comunque molte persone hanno abbandonato quindi stiamo davanti a una piccola emorragia che potrebbe diventare anche grande perché sta perdendo il gioco parecchi giocatori. Questo lo vedremo magari se potrebbe essere una soluzione l'arrivo della stagione 1. Adesso andrò a fare un altro video dove spiegherò tutte le novità per quanto riguarda la stagione 1. Quindi rimanete sintonizzati, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questo argomento e poi andremo a fare e a guardare il nuovo video. Ciao a tutti e alla prossima!